L'abbiamo risolta? Quello funziona? Guardi un po'? Funziona? No, perché penso che sia un problema generale, non solo con il suo microfono. Il sistema è andato in blocco, colleghi. Ecco, adesso abbiamo trovato il microfono che possiamo usare in sostituzione. E intanto cerchiamo di... Grazie. Abbiamo un presidente televisivo. Presidente, in quest'Aula abbiamo molti docenti universitari, pochi elettricisti evidentemente. Quel filo e quell'attenzione sui problemi, in particolare quelli più generali, di cui la legge di stabilità si deve occupare.